Inizierà dopo domani, lunedì 10 luglio, la stagione del Pescara con la partenza per la prima parte del ritiro di Rivi Sondoli. La squadra si radunerà la mattina al convitto Casa D'Annunzio per poi dirigersi nel centro Aquilano e arrivare a ora di pranzo. Alle 17 si svolgerà il primo allenamento. Farà parte della truppa anche Simone Andrea Gans. Il centravanti inseguito in questo mese e mezzo sarà in città entro domani e lunedì mattina sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto e iniziare il ritiro. Il Pescara sta ora stringendo per altre entrate. Tra queste il centrocampista centrale Luca Valsania dell'Atalanta lo scorso anno alla Cittadella. Ieri l'agente del calciatore Silvio Pagliari ha incontrato il presidente Sebastiani, il DS Leone e l'allenatore Zeman e l'affare in addirittura d'arrivo. Il Pescara cerca poi il secondo di Fiorillo e lo ha individuato in Boris Radunovic, 21enne portiere serbo, anche di proprietà dell'Atalanta lo scorso anno ad Avellino. Ci sarebbe nel caso uno scambio indiretto di portieri, visto che è ai dettagli la trattativa che sta portando in Irpinia Mirko Pigliacelli, il quale aveva chiesto, ma non ottenuto dal Pescara, garanzie di impiego. Pescara attento anche su altri movimenti in uscita. I prossimi giorni saranno decisivi per l'accelerazione della trattativa per Ledyan Memusha e il Benevento. Il Pescara aspetta proposte apprezzabili anche per Ben Ali, Brugman, Zampano e Biraghi. I giocatori vorrebbero restare in Serie A, ma il Pescara li lascerà andare solo in caso di offerta congrua. In stand-by la trattativa col Chievo per Massimiliano Gatto, mentre a breve il Delfino potrebbe affondare per il difensore centrale Giuseppe Bellusci, di proprietà del Leeds, e per riportare in rival adriatico il terzino Antonio Balzano dal Cagliari. Trattative che potranno decollare in caso di gestioni di pari ruolo già presenti in Rosa.